se lo stronzo prima invece si è fatto portare fino e poi la sessione è andato a fanculo si spero un anello che salta è toccato ma ci sono provato a forzarlo si oh godias ragazzi sì 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 grande night che porti fortuna al prezzo forse la maglietta peccato per quello che mi è scappato prima cazzo il mio anello come salta o come mai mi sapevo come si sapevo che abbiamo fatto il big il big speriamo o è big o è rampinato il big sì sì non lo tengo che filo c'è su ciò 50 50 30 30 20 15 15 60 50 20 20 20 20 20 20 si sta calmando non vuole sapere il prezzo non molla mai il tasto crepa lì con la canna in mano allora lui caceva le borre uuuu white porco dio va che recuperi un pesce al contrario ma porco dio ti ha fatto smadonnare ah guarda li hai rigirato proprio intorno ah no è il mio filo quello ce la fai? stremato però figa non male un bel pesce vuole ok due soldi c'è un bel pesce un bel pesce Grazie a tutti.